Ciao a tutti amici ed amiche del seno del toro, ben ritrovati con le vostre previsioni oroscopo per la settimana che va dal lunedì 13 a domenica 19 giugno 2022. Vi ricordo se vi va di lasciarmi un like, un commento, un feedback, iscriviti al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, cliccate su tutte le notifiche per non perdere i prossimi video ed aggiornamenti futuri. Vi ricordo come sempre che queste sono energie generali, quindi non possono valere per tutti il video del seno del toro, per quale mi invito a optare per i miei consulti privati e personalizzati con me. Vi lascio qui sotto tutto nel box informazioni. Vi ricordo che ho aperto anche il mio nuovo profilo di TikTok, quindi cercatemi sotto il nome di Taroman e ovviamente li troverete contenuti inediti che non troverete né su YouTube né sul canale, ma io profilo di Instagram, ok? Benissimo amici del toro, andiamo a girare le vostre carte. Abbiamo la carta numero 74, organizzazione e gestire più cose. Carta dell'imperatrice numero 3, l'arcani maggiore. Il vero coraggio è quello di pretendere da te stesso o da te stesso ovviamente quello che realmente desideri. Poi abbiamo la carta dell'etuale della fama numero 3. vi posso già dire che il numero 3 sarà il vostro numero di riferimento durante questa settimana. e poi uomo biondo. Quindi questo uomo con i capelli chiari, visto che è uscito la carta figura, vado a pescare un'ultima carta dei tarocchi. Vediamo che chi è e che cosa farà questo uomo biondo. Che ovviamente potreste essere anche voi se siete dei uomini biondi all'ascolto. uomo biondo. Abbiamo la carta del 4 di bastoni. Benissimo. Allora, decisamente una settimana molto molto bella. Sicuramente è una settimana in cui la creatività farà da padrona. potrete costruire quello che desiderate dalla vostra vita. Potete attrarre a voi persone, situazioni, lavori, soldi, tutto quello che davvero vi fa star sereni e vi fa star felici. Questa imperatrice sta sorridendo, questa ragazza, questa donna sta sorridendo. Sicuramente sarete maggiormente determinati ad affermare voi stessi. e siete arrivati a un punto della vostra vita in cui dovete pretendere da voi stessi quello che realmente desiderate dalla vostra vita e appunto realizzare i vostri sogni. Qui vi organizzerete, dovrete gestire vari impegni, dovete gestire varie anche risorse, ok? Dovete prendere il vostro calendario, la vostra agenda e cercare di stabilire le priorità e di organizzare bene, bene attraverso proprio degli incastri perché potreste avere vari impegni all'attivo durante questa settimana. Molti di voi donzelli si prenderanno cura di voi stessi, della vostra bellezza, della vostra femminilità. Qui c'è anche un periodo di maternità, di fertilità, quindi potreste anche mettere in cantiere un bambino, quindi anche una gravidanza. C'è proprio un senso di espansione, vi avverto sereni, felici, equilibrati. Penserete, ripeto, a voi stesse, perché qua siete voi queste. Ma qui potrebbe essere anche un nuovo rapporto di amicizia, di amore o lavorativo. Potrebbe essere, non per tutti ovviamente, un rapporto vostro con questo uomo biondo oppure potrebbe essere anche una collaborazione lavorativa ed economica. La cosa bella, la cosa sicuramente confortante è che con questo uomo biondo è uscito questo 4 di bastoni. Il 4 è l'emblema della stabilità. Voglia di unione, voglia di rendere stabile un rapporto, voglia di celebrare un qualcosa. Festeggerete anche un evento importante che riguarda il vostro fidanzamento, il vostro matrimonio, il vostro comunque rapporto in generale, anche da puntista familiare. Un qualcosa, ripeto, che vi accomuna con questo uomo biondo. Poi, se non è biondo, poco importa, però le carte danno un'altra indicazione, ok? Qui potreste sicuramente andare a convivere insieme, potreste sposarvi proprio durante questa settimana, ma io, ripeto, durante questa settimana avverto proprio una sorta di armonia, una sorta anche di pace interiore. Il fatto che sarete talmente determinati e tirete fuori gli artigli per arrivare a raggiungere il vostro sogno, quell'obiettivo che da tempo portate avanti. Riuscirete ad organizzare, a gestire più cose in contemporanea, la vostra famiglia, i vostri affetti, la vita commerciale, lavorativa, espanderete anche, perché no, la vostra azienda, la vostra cerchia di clienti, qualcosa che maturerà. E siete proprio voi che lo farete espandere. Perché è grazie al vostro mood comportamentale di durante questa settimana che riuscirete a realizzare, ma anche a creare con le vostre mani tante cose, tanti progetti. Quindi fidatevi ciecamente di voi stessi, non abbattetevi, prendete ovviamente anche quei momenti di sano riposo e di relax, ok? Però sicuramente riuscirete a gestire la vostra vita in maniera comunque egregia. E sicuramente il sorriso non mancherà sul vostro volto, ok? Qui potrebbe essere questo uomo biondo anche una persona, potrebbe essere una persona che o vi venderà casa o potrebbe essere anche l'agente immobiliare che vi proporrà determinate case. E magari proprio durante questa settimana firmerete un contratto di acquisto o vendita di una casa o ovviamente anche di un immobile. Ma anche qui è tempo di festeggiamento, ok? Per celebrare un qualcosa di veramente significativo per voi. Ora, non so perché il mio intuito mi dice che, visto che è uscita questa carta dell'ettuale della fama, devo pescare un'ultima carta dai tarocchi. Mi è venuto proprio questo flash in questo momento. Vediamo un attimino questa carta perché è uscita anche l'ettuale della fama. Vediamo che, ripeto, qui è una donna ma potreste essere anche proprio voi questa figura. Vediamo. Guardate, è uscito il 9 di denari. Se voi mi seguite, io dico sempre che il 9 di denari è una carta bellissima. Per me è la carta più bella del mazzo perché, come ho detto poc'anzi, starete bene con voi stessi. La parola che è del 9 di denari è creatività. Ripeto, creerete qualcosa di bello, di entusiasmante. Grazie a questa cosa arricchirete la vostra vita. Potrete godere della vostra vita sia da soli sia grazie anche al supporto e ai rapporti con le altre persone. Quindi tempo di soddisfazioni personali, di gratificazione. Ok? Quindi, cari incestini del toro, io non ho nient'altro da dire. Vi dico solamente che è una settimana veramente, a dir poco, scoppiettante. Questi stelline, questi fuochi di artificio dentro e fuori di voi. L'importante però è saper organizzare al meglio le risorse materiali, le risorse economiche a disposizione per affrontare i vari impegni che, appunto, la vita vi riserverà proprio durante questa settimana o durante il breve periodo. Ok? Quindi, altre cose, amici del Signore del Toro, non ne ho da dire. E io vi aspetto sempre qui sul Taroumen. Ciao a tutti e alla prossima!